Sentiamo i nostri amici docenti. Allora, professor Melelli, professoressa Bragaglia, professor Bennato, l'offerta della settimana. Cominciamo dal professor Melelli. Professor Melelli. Stavo riflettendo... Professor Bennato, e lei come la pensa? Sì, diciamo che c'è un bella offerta succulenta rispetto ai miei gusti questa settimana, sia dal punto di vista dei film italiani che dei film stranieri. Per quanto riguarda... Il primo che vorrei subito andare a vedere è sicuramente di Holdovers, Lezioni di vita, perché io confesso di avere un debole per i film che trattano il rapporto docente-discente, perché mi piace rappresentarmi e soprattutto notare delle sfumature in questo rapporto che è sempre molto delicato e molto affascinante, soprattutto quando la distanza fra docenti e discenti in età non è così ampia. Poi sicuramente c'è The Piper, che ho capito che non è proprio un film horror particolarmente riuscito, ma a me questa ambientazione nel mondo della musica classica, nel mondo della questione legata ai demoni che si materializzano attraverso la sequenza delle note in un contesto musicale, è un archetipo che a me piace da morire. Quindi anche se rischierò di essere deluso, pur essendo un appassionato di film horror, comunque questa è la mia seconda scelta. Poi c'è Pare Parecchio Parigi, sempre tornando alla dimensione del docente, perché a me piace molto la comicità surreale, la figura surreale di Nino Frassica. E vederlo qui nei panni di un docente in pensione che deve riallacciare il rapporto con i propri figli è una cosa che me lo rende particolarmente simpatico. E poi infine c'è Yannick, perché secondo me è una perfetta sintesi del rapporto che si è venuto a creare nei social, in cui le persone non sono consumatori di contenuti, ma intervengono anche sui contenuti nei social, criticandoli, creando polemiche oppure condannandoli senza possibilità di riscatto. Quindi sicuramente queste sono le mie scelte di questa settimana. Allora, le scelte di questa settimana. Professor Melelli, professoressa Bragaglia, professor Bennato, il vostro commento a questa classifica. Professor Melelli. Ma sicuramente è una classifica. Professor Bennato. Beh, diciamo che i primi tre posti sono interessanti perché sono dedicati a tre diversissime tipologie di pubblico. Al primo posto c'è Miyazaki, comunque intercetta gli appassionati dell'animazione, soprattutto di un certo tipo di animazione giapponese molto raffinata e molto sofisticata. Poi c'è Perfect Days, che comunque è Benders, che ha una sua dimensione estetica molto riconoscibile. Poi appunto c'è la commedia che succede anche nelle migliori famiglie. Quindi secondo me questi tre posti identificano anche tre tipologie di pubblico che stanno cominciando a tornare nelle sale, che secondo me è un bel segnale. Devo dire la verità, sono anche contento del fatto che c'è in classifica The Beekeeper. Per la mia, praticamente, diciamo così, passione per quella che posso chiamare la prevalenza del tamarro. Allora, questa è la torta. Bennato, lei ha sentito quello che diceva il professor Mendolicchio, il rapporto tra la psichiatria e il rapporto tra il cinema. Ma io non so se sono stato ben informato, professor Bennato. Lei ha scritto un libro ultimamente. Sì, è appena uscito il mio quarto libro. E ce l'ha anche con lei? Ah, eccolo. Sì, 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 sì. E come si intitola? La società del ventunesimo secolo, persone, dati e tecnologie. E che società è? C'è posto per il cinema in questa società del ventunesimo secolo? Allora, prima di tutto le dico subito una cosa. Complice, le mie, diciamo così, ospitate qui da lei, c'è anche, ho usato sistematicamente le pellicole cinematografiche per descrivere degli scenari che hanno a che fare col futuro e con la fantasia. Quindi, per spiegare alcune cose tecnologiche della società contemporanea, ho fatto anche riferimento a diverse pellicole, tanto che c'è in fondo al libro, dopo alla bibliografia, c'è anche una filmografia delle sedi televisive che ho utilizzato per rappresentare questo tipo di situazione. La società del ventunesimo secolo è una società molto interessante perché è un ibrido fra le tecnologie che ci permettono di fare cose straordinarie ma che rischiano di uscire dal nostro controllo e le persone che hanno bisogno delle tecnologie anche per ripensare il proprio rapporto col mondo circostante, con se e seste e con l'altro. Quindi sicuramente il libro che ho scritto è un percorso, è un'indagine sicuramente sociologica perché questo è il mio mestiere, ma che si interroga sostanzialmente su che tipo di società stiamo vivendo e perché questa società è praticamente indistinguibile da certi racconti a cui ci ha abituato i film di fantascienza. Quindi questa è un po' l'idea principale. Professor Mendolicchio, lei è il professor Mendolicchio.